amici di youtube ben trovati da marco liquori in questo video parliamo del grave lutto che ha colpito lo sport italiano e nello specifico il calcio italiano a 71 anni è scomparso mauro bellugi ex difensore di inter napoli e della nazionale italiana particolare un po cruento di recente mauro bellugi che tra l'altro è stato anche un apprezzato opinionista sportivo ha subito l'amputazione di entrambe le gambe di recente aveva dichiarato sono stanco di combattere il secondo canale marco liquori ricordo mauro bellugi